Cattia Serra, parliamo dell'Under 21, ieri soltanto un pareggio, il cammino è in salita, però ci sono comunque tanti elementi che possono far ben sperare in vista della partita dell'Inghilterra. Certamente ieri la squadra ha giocato bene, una grande prestazione, purtroppo è mancato il gol, soprattutto nel primo tempo, perché se fosse arrivato la prestazione poteva essere diversa e diventare più semplice. Va sottolineato però che a differenza della gara contro la Svezia, dove siamo usciti dal match mentalmente, troppo nervosi e ci siamo fatti mali da soli, ieri comunque, nonostante il gol non riusciva ad arrivare, la squadra ha mantenuto il giusto atteggiamento, sereno, concentrato, determinato, equilibrato, senza mai perdere l'aspetto mentale e quindi non si è lasciata innervosire. In questo, secondo me, merito certamente dei ragazzi e dello stesso mister che ha trasmesso la giusta tranquillità e mi fa ben sperare perché comunque in questo modo te la giochi dando tutto. Quando invece, come nella prima gara, perdi la testa, allora non va bene e dopo rimani con dei rimpianti. E' una nazionale che però non è cinica, crea ma non riesce poi a far gol, almeno questo è quello che è accaduto ieri. Sì, anche nella prima gara, per cui sotto questo aspetto effettivamente in fase offensiva manca un po' di cinismo dentro l'area di rigore e anche un po' di precisione perché a volte sbagliamo qualche movimento sull'attaccare gli spazi e perdendo quindi il tempo giusto per andare alla conclusione. Però va detto che anche giocare con tre punti, di cui uno di battocchio in realtà è posizionato lì per equilibrio tattico ma non è un giocatore d'attacco, fa sì che il nostro gioco appunto perda un qualcosa, secondo me, sotto il profilo offensivo. Però sono delle scelte tattiche che sono state studiate, allenate, per cui hanno comunque una logica naturalmente. Saresti aspettata un diverso utilizzo da parte dei giocatori in panchina? Beh, intanto io dico che Sportiello, secondo me, visto l'ottima stagione che ha fatto l'Atalanta, me lo aspettavo titolare. Poi sicuramente sin dall'inizio io ho pensato che la miglior coppia difensiva che noi abbiamo sia Rugani e Romagnoli, per cui ieri hanno dimostrato quanto siano di valore ed è stato un peccato, secondo me, non vederli giocare insieme sin dalla prima gara. Detto questo, fa bene il mister a fare il turnover perché in una competizione così rapida abbiamo bisogno di tutti. Quindi sono bravi i ragazzi a farsi trovare pronti, bene lui nel coinvolgerle tutti. Adesso vedremo quali saranno le sue scelte contro gli inglesi, una partita difficile ma possibile. Per chiudere, Bernardeschi, secondo te magari meritava un maggiore spazio se avesse avuto qualche partita in più sulle gambe, sarebbe stato un titolare? Allora, questo Bernardeschi no, più spazio non lo meritava e mi dispiace perché io stravedo per il giocatore fortissimo, ma sappiamo tutti che viene da un lunghissimo infortunio e purtroppo non è arrivato al meglio nel momento decisivo. Se fosse stato bene, sono sicura anch'io che avrebbe giocato di più e soprattutto poteva incidere. Ieri secondo me è stato inserito un po' troppo presto perché al di là di 20 minuti a questi livelli purtroppo non ha la condizione che lo sostiene, però un giocatore che è buttato nella mischia all'ultimo, il colpo lo può trovare e l'assist per Biraghi l'ha fatto lui ieri sera. Una dimostrazione che ha tanta qualità e, ripeto, peccato che sia arrivato al momento decisivo.